Buongiorno ragazzi, sono Salubitica Mezzone ed ecco qui un nuovo video tutorial per come craccare e giocare il multidayer a sniper e light v2 bene, per prima cosa, il link sarà questo qui ve lo metterò in descrizione, dovete cliccare questo qui e vi scaricherà il torrent peserà il torrent, mi sembra 12 megabyte infatti 12 megabyte poi ed ecco qui, prima di tutto bisogna scaricare la steam installarlo, registrarsi, una volta fatto risponderà così andate su Crack, copiate tutti e due i file tasto destro copiate, tasto destro copia andate sul gioco io ho messo il gioco qua, tasto destro, proprietà, percorso file il carn sniper è l'individuo qua dentro, incolla si, e poi vi darà di spostare, sostituire file e bovare tutti quanti si una volta fatto questo, riteniamo nella Crack e clicchiamo Stem System Stem Smart Stem ok andiamo sull'icona degli Stem che appena l'abbiamo installato e registrato risponderà sul Dextro tasto destro, proprietà apre questo file e qui, tasto destro, incolla oppure ritracciniamo così come volete voi così una volta fatto andate su Steam fate aggiungi un gioco aggiungi un gioco non in Steam sfoglia dove voi vede il gioco dove voi vede il gioco per esempio c'è un gioco di azione qui cliccate fate apri e qua ve lo metterà spuntato e fate aggiungi un programma selezionato una volta fatto questa operazione risponderà qua poi cliccate il tasto destro su Steam e uscite e lo riaprite una volta riaperto andate su libreria e lo azionate da qua il gioco vi funzionerà più c'è il multiplayer perciò spero che questo video di oggi sia stato utile mettete mi piace commentate iscrivetevi al canale e vi saluto bye bye